Il peggiore pedofilo del mondo è stato catturato qualche anno fa. Il suo nome? Peter Gerald Scully, classe 1963. L'uomo è scappato nelle Filippine per sfuggire a dei guai immobiliari. Ha ricattato e promesso a famiglie poverissime di prendersi cura delle loro bambine. Invece ha messo su un sito del dark web video in cui le violenta, il tutto per vendere i filmati. Le autorità sono riuscite a catturarlo, anche se con qualche difficoltà. Nel 2018 è stato condannato all'ergastolo, ma tra 30 anni forse potrebbe uscire. Le sue vittime pagano ancora ad oggi il prezzo di queste terribili sevizie.